Con le accuse di detenzione di armi clandestine comuni da sparo e ricettazione, i carabinieri della compagnia di Locri, con il personale dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, hanno arrestato un uomo di 45 anni. L'uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un fucile artigianale modificato e senza matricola. Una pistola con matricola punzonata e relativo serbatoio, una pistola giocattolo tipo revolver, priva del tappo rosso e con canna otturata, numerosi proiettili calibro 36 e 65. Le armi erano nascoste tra la fitta vegetazione in un terreno adiacente all'abitazione dell'arrestato. I carabinieri di Bagnara Calabria, in provincia di Reggio Calabria, hanno denunciato in stato di libertà un 65enne gestore di un ambulatorio odontoiatrico. Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno rilevato che, benché in possesso dei titoli previsti per esercitare la professione medica, gestiva l'ambulatorio odontoiatrico in assenza dell'autorizzazione prevista. La struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo. Una telefonata anonima giunta al centralino ha fatto scattare l'evacuazione degli uffici della Corte d'Appello di Catanzaro. Nel corso della telefonata è stata annunciata la presidenza di una bomba nello stabile che ospita, oltre alla Corte d'Appello, anche le direzioni distrettuali antimafia e la Procura. Gli uffici sono stati evacuati. La polizia ha avviato gli accertamenti del caso. Loredana colloca per l'AC News 24.